Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, quest'oggi siamo al campo del PCC Bresto per una goalkeeper battle veramente devastante Finale di Champions League, Manchester City contro Chelsea Sfida ad altissimo livello, abbiamo alla mia destra, presentati che non ti conoscono Andrea, trovi a piacere Dove giochi, dove non giochi, cosa fai, cosa non fai Gioca a Legnano, anno 2000, ex compagno di... Va bene, tu Lore, raccontaci un po' Ciao a tutti, Lorenzo Martignoni, portiere della Cileon, classe 2000, gioco in eccellenza e amico di Sergei Oh, quindi siamo qua un po' tutti amici, tutti del 2000, anche io sono del 2000 Vi lancio questa sfida che a 10.000 like, raga, chi vincerà questa goalkeeper battle affronterà la super finale contro Sergei GK Allora, le regole sono facili, bisogna stare in porta, prima di tutto Bisogna calciare al massimo due metri dalla linea della porta, ma si può calciare come si vuole Quindi con le mani, con i piedi di testa, di tacco, rovesciato, come volete Basta scannarsi E che vinca il migliore Che vinca il migliore, 20 minuti di tempo, sta a voi e decidere chi andrà in finale contro di me In bocca al lupo, raga, che vinca il migliore Ma come volo! Prima di continuare con il video, quest'oggi volevo ringraziare FC Magna per avermi inviato queste tre magliette che sono veramente stupende Abbiamo il Barcellona, abbiamo quella del Napoli, che per me è veramente spettacolare per il colore rosso, lo stemma ricamato E' veramente bellissima E poi abbiamo la finalista della Champions League, il Chelsea Raga, magliette super super devastanti e vi ripeto che potete anche personalizzarle come volete voi Inoltre vi ricordo che con lo sconto GK avrete il 15% di sconto Quindi cosa aspettate ragazzi? Per maggiori informazioni trovate tutto nel link in descrizione e noi andiamo avanti con il video Comunque per la prima volta in una goalkeeper battle non parteciperò Ma farò il telecronista con questi bellissimi fanciulli qui Abbiamo il nostro carissimo Davide Il nostro youtuber più famoso d'Italia, ZW Jackson E poi il giocatore più forte del mondo Ho due magi Questo è vero Su di me ho qualche dubbio ma su Odu è vero E poi si sta sedendo, mister come volo Raga Anto, per la prima volta non mi vedi partecipare a una goalkeeper battle? Sono qua a commentare con voi Secondo me si spaccheranno Secondo me c'è una vera finale di Champions Poi guarda il portiere del City È una montagna, cioè è enorme Odu, pronostico? Io se è a G City, secondo me vince il City Vince il City? Lui dice City Per ora 1-0 City E io Andre ci ho giocato Quindi sono un po' di parte E per questo non si offende Se ti farò il Chelsea Così 1-1 1-1 Tu Dav Ma allora io non li conosco bene Però quello che posso dire Secondo me è City Vabbè allora io vado in pareggio E dico Chelsea Quindi 2-2 Chi vinca il migliore Cominciamo con la sfida Vamos! Carico Andiamo Primo tiro Facile Facilissima Bravo Andre Bravo Bravo Lore Bella parata Bella parata Dai fammi un gol City Ancora lì Va bene va bene Comunque ricordiamo che potete tirare come volete Quindi anche al volo Con le mani Contro balzo Alla brasiliana Quindi scegliete voi Oh L'avevo visto dentro io Mamma mia Tanto così Ah con le mani Con le facile Adesso si chiama riscaldamento Andre Andiamo Oh Scherzo il palo Me lo so perso Sotto il set Me lo so perso Bello Grazie Brava Andre Bravo Dai 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 Chelsea Un bel leva gamba Qua hai visto come è andato giù Bello potente Madonna Soprava sotto il set Sempre di poco Manca un po' di fortuna ancora Andiamo eh È uno pari Passione Andre Eccolo Sì Due uno per set Sì Portare immobile Con quel malleolo lì Sì Bravo Bella 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 Tre Tre Due Bella viva questa partita qui Eh si sono riscaldate La grande Facile Facile Easy Oh Bravo Oh guarda cosa combina Portiere No è questa Ah Vabbiamo Bello 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 4 a 2 Gran paradoci Let's save Let's go Let's go Let's save Let's go Odoo internazionale Centrale Sì L'ha preso col ginocchio Sembrava dentro il pallone Così L'ha preso poi all'ultimo Grande Lone Mancano sette minuti 4 a 3 ancora Vai vai Che la pareggiamo No La blocca lì Come on zizi Come on zizi Yeah L'ha entrata 5 a 3 5 a 3 per si 5 a 3 Quanto manca 5 minuti No Volevo spaccare la porta Traverso ha preso Buono buono Lore Dai dai Non mollare Mamma mia E' un polla Ma chi sei O tu amati Che gol Ma chi sei Ma chi sei Ma chi Vai Per il pallone Per il pallone Eccolo Lo sapevo Guarda Odoo Che è lì disperato Per il city Lo sapevo Sono due minuti Sì Col piede E adesso Dopo il pareggio Il rimontore Oree 3 gol ha recuperato E va più uno 6 a 5 6 a 5 Fra ha fatto il rimontore 6 a 5 Ultimo minuto del fuego Dai raga Come on Chelsea Sì Bravo Lore Per il rimontore Per il 7 a 5 Per il 7 a 5 Per il 7 a 5 Golden goal adesso Ti segna Vai in finale Nooo Yes Siamo We won We won We won Aspetta 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 L'ultimo tiro Sì Dai Lone Sì Sì Grande Lone Mai mollare Sento la pressione Della finale Che parata è? Grande Lone Sì Che volo Sì No 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 Hai sentito cosa ho detto Ma come è il volo Frazione Questo è l'ultimo Sì Ma come è volo Ma come è volo Lone E andiamo Final di Champions Vinta dal Chelsea Oh City però Partitone Miracoli da una parte Dall'altra Super goal Pali Traverse Tutto quello che volete Ma la fortuna Ha baciato lui Ha baciato lui Però non lo so Perché comunque ha preso Un po' di legni Hai fatto una parata Quella che poi hai preso il palo Finale di Champions Finale di Champions League vinta dal Chelsea Però adesso vi ricordo Raga che hai 10.000 like Ci sarà la Super Lega La finale di Super Lega Ci sarà Sergei GK Contro il nostro Grandissimo Mendy Portiere del Chelsea Ragazzi Cosa pensi di questa sfida Epica Perché è stata epica È stata Vi giuro Sfida assurda Complimenta Entrambi i portieri Cioè per la prima volta Non ho partecipato Ma mi sono gasato Nel vedere Hanno fatto di quelle Parate Scannarsi così tanto Devastanti Cioè Io mi sono proprio Così tutto lo spettacolo Ne è valso il prezzo Del biglietto Assolutamente sì Prima di salutarvi Vi ricordo di iscrivervi Al canale Road to 100.000 Come sempre Vi ricordo di seguire Sui profili social I nostri ospiti Andrea Travaini Sergei.gk Lorenzo Martignoni Zv.jackson Ma soprattutto Il nostro videomaker Tinto.mp4 Mi raccomando ragazzi Seguitelo Da Sergei Ragazzi è tutto Lì nello studio Ciao boys Buongiornois Grazie a tutti Grazie a tutti.